Contate sempre su di noi. Italia e Ucraina, sempre più vicine. Continueremo a fare la nostra parte, dichiara con forza il Presidente del Consiglio, e lo faremo a 360 gradi. Lo dimostra la conferenza bilaterale sulla ricostruzione di oggi, a cui hanno preso parte le più alte cariche del governo italiano e ucraino. Oltre al capo dell'esecutivo, i suoi vice Tajani e Salvini, i ministri Giorgetto e Urso, in rappresentanza di Kiev il primo ministro Smial e il titolare degli esteri Kuleba. In collegamento anche il Presidente ucraino Zelensky, che ringrazia l'Italia per aver organizzato un appuntamento così importante per la ricostruzione della sua terra. Un impegno che io avevo preso personalmente con il Presidente Zelensky e come tanti altri impegni che l'Italia aveva assunto, ha inteso mantenere anche questo. Tavoli tecnici, dunque, 600 aziende italiane chiamate a condividere la loro formazione con imprenditori ucraini, perché la ricostruzione è parte fondamentale dell'azione di vicinanza all'Italia, come sottolineato dal nostro Ministro degli Esteri. Oggi investire sulla ricostruzione dell'Ucraina non è azzardato. Parlare di ricostruzione dell'Ucraina significa scommettere concretamente sulla vittoria e sulla fine del conflitto, perché io sono certa che il futuro dell'Ucraina sarà un futuro di pace, sarà un futuro di benessere e sarà un futuro sempre più europeo. Si può investire oggi in Ucraina? Sì, si può. Oggi è stata l'occasione per avere più di 150 aziende ucraine qui presenti e per iniziare ad avere rapporti con loro. Dobbiamo anche ricordarci che molte nostre associazioni hanno già firmato dei memorandum per far riparatire tutta quell'economia che si era fermata. Un confronto a tutto campo dunque su infrastrutture, energia, salute, digitale e siderurgia. D'altronde le stime sui fabbisogni ucraini sono ingenti, 400 miliardi secondo il Ministro Giorgetti. Vorrei soltanto ringraziare personalmente Giorgia e ringraziare tutti quanti. Grazie per le tue parole, grazie Italia dell'appoggio, gloria a Italia, slavo a Ucraini.